Le violenze sessuali si sarebbero consumate durante i loro incontri nella comunità di Padova, dove era ospite la presunta vittima. Lei, paziente, si trovava in questa struttura terapeutica per persone con disturbi di comportamento. Lui, 60 anni, era il suo psicologo e psicoterapeuta. Il fatto sarebbe accaduto nel maggio dello scorso anno. Ad un certo punto la paziente non è più riuscita a sopportare quella situazione e ha denunciato tutto. L'inchiesta si è chiusa con la richiesta di rivio a giudizio, richiesta accolta dal giudice per l'udienza preliminare. La prima data del processo è stata fissata per il 14 gennaio 2020. La donna, affetta da depressione, era stata accolta nella comunità per un percorso terapeutico. Lo psicologo era un collaboratore esterno della struttura. Il rapporto particolare tra i due pare fosse stato notato anche da alcuni operatori. La donna ha testimoniato attraverso un incidente probatorio, interrogato. Lo psicologo invece si è difeso rispingendo l'accusa e definendola una ritorsione.